Si è concluso questo cantiere dopo un iter lungo come da cronoprogramma, è stato un cantiere interessante dal punto di vista del restauro, ma anche degli obiettivi che si era posta la progettazione e l'amministrazione quando ha bandito questa gara per i lavori. I temi erano lo scavo delle insule, il ristauro delle mura, l'accessibilità e l'illuminazione dei templi e tutti e quattro obiettivi sono stati raggiunti. Il cantiere è stato avviato prima con lo scavo delle insule che sono state diserbate vista la vegetazione infestante rilevante che era presente, poi dopo lo scavo sono state restaurate le murature e gli apparati decorativi riportando alla luce quattro insule significative. Un'altra area del cantiere è il tratto delle mura, sono state restaurate con un lavoro anche scientificamente rilevante, quindi con l'assistenza archeologica dell'Università di Salerno, ma anche con i direttori operativi in cantiere, sono stati catalogati ogni singolo blocco, sono stati ricollocati in situ seguendo insomma i rilevi, all'asse scanner, ma anche la documentazione scientifica che è stata prodotta durante il cantiere. Un tema importante per rendere il parco di Pestum inclusivo è stato il tema dell'accessibilità, sono stati creati all'interno del parco i percorsi accessibili a tutti studiando un battuto mirato che era previsto in progetto e quindi un battuto in cuoccio pesto con una campionatura di materiali ben studiata sia da punto di vista cromatico ma anche per quanto riguarda lo spessore. Si è pensato che nei salti di quota o laddove ci fossero emergenze archeologiche realizzate le passerelle che sono state di fatto realizzate sono visibili e sono fruibili in situ. Un percorso che punta sia alla visione del paesaggio ma anche dell'archeologia che costeggia questo percorso. In più è visibile anche di notte tutto questo perché il percorso accessibile a tutti è stato pensato e quindi realizzato con l'illuminazione. I templi avevano un tipo di impianto bosoleto non più funzionante per cui si è pensato nel rispetto anche dei finanziamenti PON che ci erano stati concessi dal Ministero di puntare l'efficientamento energetico per cui è stato rimosso il vecchio impianto presento nei templi ed è stato rifatto un nuovo impianto ovviamente con led con illuminazione attuale secondo le norme per cui i templi si dipingono di colori a seconda delle manifestazioni che durante l'anno capitano. L'obiettivo è portare avanti un cantiere di ristauro e farlo bene e da un intervento è riuscito perché gli obiettivi che si vuole in aprile sono stati tutti risolti e portati avanti e si può dire che un cantiere è riuscito e fatto bene. Grazie